Coronavirus fase 2 dal 18 maggio riaprono centri sociosanitari. Dal 18 maggio in Sicilia potranno riprendere l'attività delle strutture sociosanitarie dedicate a persone diversamente abili o fragili. La misura che rientra tra le azioni in ambito sanitario previste nella fase 2 dell'emergenza coronavirus è contenuta in una circolare dell'assessorato regionale della salute che di fatto recepisce l'ordinanza del presidente della regione siciliana dello scorso 30 aprile. Nello specifico si tratta delle strutture semi residenziali dei centri di urni per pazienti psichiatrici o affetti da Alzheimer o autismo ma anche centri di urni socioeducativi per minori e quelli per anziani, questi ultimi afferenti all'assessorato regionale alla famiglia, chiusi nel marzo scorso per contenere il contagio dal virus. Il documento, che richiama anche diversi studi condotti dal Comitato Tecnico Scientifico della regione siciliana, contiene linee di indirizzo per consentire la ripresa delle attività assicurando la massima sicurezza a ospiti e operatori. Proprio il personale dovrà essere adeguatamente formato sulla corretta adozione delle precauzioni standard sull'utilizzo dei dispositivi. La circolare raccomanda prima della riapertura, che dovrà comunque avvenire dopo un'interlocuzione con le ASP, opportune azioni per la preparazione e allestimento dei locali nei quali verranno erogate le attività secondo la necessità correlata alle nuove modalità di utilizzo e la sanificazione dei medesimi. ... ... ... ...